Spending Review, tagli agli enti locali, alla Regione Campania, argomento di grandissima attualità. Ne parliamo con l'assessore al bilancio Giancane, assessore da Roma sempre minori finanziamenti. Qual è lo stato di salute delle casse della Regione Campania? Beh, ovviamente arrivano minori finanziamenti, bisogna operare quando mancano le entrate sul lato della spessa. Sul lato della spessa la Spending Review, tanto diciamo nominata, non è altro che una revisione della spessa. Andare a ricercare quella che è meno urgente rispetto ad altre o quantomeno meno importante. Tutte le spese ovviamente possono essere importanti, però sicuramente attraverso una gradualità delle une rispetto alle altre, quando vengono a mancare le risorse bisogna cercare di operare. Questo è stato fatto anche dalla Regione Campania. Il 17 di questo mese è stato approvato il disegno di legge che attualmente si trova in Consiglio, dove si è cercato attraverso economie su altri settori di trovare coperture su settori più importanti, primo tra tutti l'antincendio boschifo, anche pagamenti alla forestazione che ancora risalgono su arretrati del 2011. E attraverso questo disegno di legge noi prevediamo per il momento di rimettere a posto e a regime i conti della Regione Campania del 2012. Assessore, si parla tanto di austerity, però la giunta regionale ha costi enormi, più di 8.000 dipendenti, 160 auto blu, non è il caso di tagliare anche queste spese passive? No, non sono 8.000 dipendenti, si parla di 6.000, poi in tutte queste situazioni è ovvio che anche 6.000 possono essere troppi e sono troppi, ma quando si fa revisionare su una spesa, se si tratta di dare un contributo o di aver dato un contributo per anni, può essere facile dire ma questo contributo può essere risparmiato. Quando si tratta invece di personale, ovviamente ci vogliono determinati anni per cercare di riassorbire determinate situazioni, altrimenti se si deve fare non con una spending review ma solo attraverso un assestamento dei conti, basta dire, bene, qui ci sono 2.000 persone in più, allora queste licenziamo, nei trasporti item, nella forestazione dappertutto, eccetera. Siccome questo non si può fare per evidenti motivi, è giusto che questa spending review incomincia ad affrontare il problema in modo da poter fare economie, ma quando si tratta di personale pensando che l'economia sul personale significa economia sulle famiglie, economia anche su persone che vivono di quella situazione. Non si può prendere solo perché c'è stato un esubero di personale per 30 anni, a un certo punto uno che ha 20 anni di servizio e che ci deve lavorare altri 20 anni dice non mi servi più, vattene a casa. No, bisogna fare delle scelte che vanno graduate nel tempo se vogliamo salvaguardare anche l'aspetto sociale, altrimenti poi si diventa veramente ad un taglio di lacrime e sangue. No, bisogna fare i tagli, bisogna farli serie, bisogna farli con ponderazione e bisogna avere di mira non di voler risolvere tutti i problemi in sei mesi perché i problemi che toccano il personale non si risolvono nei sei mesi né in un anno, però bisogna avere una strategia lunga per poterla perseguire in modo che l'obiettivo è quello. Poi ci vorranno tre anni, cinque anni per portare le cose proprio al punto giusto e va bene, se questo serve per poter salvare le famiglie, ben venga. Qualcosa in più però per i costi della politica si potrebbe fare, diciamo le auto blu, i costi per le segreterie dei vari assessori? Beh, per quanto riguarda i costi della politica, avete letto tutti, avete visto, già io vi posso dire che un assessore costa molto, molto di meno di quando sono arrivato. Non voglio stare lì a dire le cifre, però insomma uno basterebbe guardare, evidentemente dei tagli ci sono stati. Sulle auto blu lo sapete che c'è stata l'altro giorno l'approvazione al Consiglio regionale, ma io direi al di là di cercare la singola situazione, il singolo taglio a volte che è quello che colpisce la gente, ci sono dei tagli molto più profondi da fare che magari la gente nemmeno immagina, ma è che è opportuno che vengano fatti perché è lì il risparmio, è lì che si può salvare la regione Campania. E se noi riusciamo ad operare andando avanti in questo modo ancora per un altro po' di tempo, io penso che la regione Campania, da una regione che era nella retroguardia, può dignitosamente mettersi in testa e dire questa è un'amministrazione che funziona. Un'amministrazione che funziona è a garanzia della democrazia, a garanzia di tutti quanti, perché è un'amministrazione che non funziona, praticamente lascia largo agli sprechi, ma solo in certe direzioni e questo è contro la democrazia.